Le fiamme gialle del Comando Provinciale, nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto dell'evasione fiscale, hanno eseguito il sequestro di bene per ben 500.000 euro in confronto di un noto imprenditore di Vittoria. Un sequestro che nasce da una complessa indagine fiscale che ha consentito di smascherare l'uomo, il quale, mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, aveva presentato dichiarazioni di erediti fraudolenti per diverse annualità. Sottoposte a sequestro quindi beni immobili, autovetture, depositi bancari e postali, o stappolizi assicurative, per circa 500.000 euro. Un importo che corrisponde, fanno sapere dal Comando della Guardia di Finanza, alle imposte complessivamente vase, sia in materia di imposizione diretta che in materia di IVA. Quindi un sequestro preventivo allo scopo di sottrarre alla disponibilità dell'evasore il profitto dell'attività illecita e al contempo di aggredire qualsiasi elemento patrimoniale alla sua disponibilità anche per interposta persona.